musica musica sicuramente è stata emozionante e mi è piaciuta molto perché comunque una regata dinamica, i metri cambiavano spesso quindi ci siamo fatti un po' trainare dalla rotta nord esotica col senno di poi chiaramente è stato un rischio enorme però poi alla fine la cosa bella è che siamo arrivati tutti insieme non avevamo mai le previsioni che ci aspettavamo quindi era sempre complicato prendere delle decisioni è stata una regata anche abbastanza lunga a livello di giornate in mare è totalmente diverso da quello che ci si aspettava credo che siamo potessi sbagliare con i leader e alla fine siamo potessi giocare anche per la gara l'ultima notte grazie a tutti